se dovessi raccontarla a dei bambini di premio elementare direi pensate al compito più noioso che dovete svolgere ogni giorno tutte le settimane sempre nello stesso modo scommetto che qualcuno di voi penserà lavare i denti altri rifare il letto altri mettere a posto la propria camionetta ecco immaginate che esista un sistema che svolga tutti questi compiti al posto vostro in modo perfetto e veloce per semplicità potete pensare a uno di quei robot simpatici che vediamo nei carattori animati vi piacerebbe provarlo? Colondike è proprio questo un negozio digitale che contiene tutti questi assistenti robot solo che per adesso non aiuta voi ma aiuta i vostri genitori così dovranno lavorare un pochino di meno e avranno più tempo per giocare con voi. Il progetto Colondike nasce parlando con tantissime aziende piccole medie e grandi se italiane che internazionali che ci chiedevano costantemente e con una certa insistenza di aiutare ad implementare algoritmi di intelligenza artificiale all'interno dei propri processi in modo semplice veloce e sostenibile. Abbiamo capito che la chiave era un motore a processi che permettesse di far lavorare tra loro tutti questi algoritmi con l'aiuto dell'Università di Verona abbiamo quindi dato vita a Colondike. Colondike ti consente di inserire l'intelligenza artificiale nella tua azienda in modo rapido e veloce in modo da automatizzare i tuoi processi riducendo i costi risparmiando tempo e migliorando la customer experience. Le tre caratteristiche differenzianti di Colondike sono in primis sicuramente i tempi di implementazione. Grazie a connettori genativi già sviluppati in piattaforma con i principali CRM, e-commerce, IRP, i tempi di implementazione si abbattono notevolmente. In pochi giorni l'intelligenza artificiale è già implementata nella vostra azienda. In secondo luogo non c'è bisogno di avere né data scientist né sviluppatori per implementare Colondike, basta il nostro supporto. In terzo luogo i costi. Grazie all'approccio low-code che abbiamo adottato e ai connettori nativi i costi si abbattono di molto e il time to market è molto più rapido.